Cosentino, difensore classe 99, proveniente da Legnano, nuovo acquisto del Sant'Angelo. Raccontaci come mai hai deciso di accettare la proposta del Sant'Angelo, Maurizio. Sì, ho ricevuto la proposta dal direttore Ferrara che mi ha contattato, mi ha parlato del progetto, mi ha parlato dell'area che si respira qui, dell'ambizione che si ha e quindi è stato difficile rifiutare, sono contento di essere qui. Abbiamo studiato un po' la tua carriera, sei cresciuto nei dilettanti nella tua regione, la Basilicata, poi hai esordito nel Picerno in Serie D, un anno ad Ascoli e tre anni a Caronna dove hai già conosciuto Mister Gatti e l'ultima parte di questa stagione a Legnano. Raccontaci da difensore quali sono le tue caratteristiche. Sì, ho fatto tre anni a Caronna dove in due anni ho avuto l'opportunità di conoscere Mister Gatti, un attore che stimo, con cui ho un buon rapporto, mi piace come allenatore e sono contento di avere l'opportunità di stare qui con lui. Niente, le mie qualità sono magari, le qualità migliori sono la marcatura, mi piace marcare e soprattutto magari giocare il pallone, queste sono le mie qualità. Non ti rubiamo altro tempo perché c'è allenamento, quindi ti diamo il benvenuto a Sant'Angelo e in bocca al lupo per la stagione. Grazie. Grazie. Grazie.